Seconda giornata nelle tende per la giustizia penale barese, le tre tenso strutture montate dalla protezione civile regionale nel parcheggio sterrato antistante il Palagiustizia di via Nazarian, dichiarato inagibile per pericolo di crollo, hanno accolto anche oggi le udienze di rinvio dei processi penali ordinari di primo grado. Oggi ho dovuto tenere udienze in una tenda con 40 gradi e tra le zanzare, rinviando ad una fantomatica data del 12 novembre in corte di Assisi, ha detto il giudice Rossella Caglia Di Pinto, segretario della NM di Bari. Sull'area dove è stata allestita la tendopoli c'è stato in mattinata il sopralluogo del genio militare per montare una diversa pavimentazione in vista del maltempo che si prevede nei prossimi giorni e che renderebbe impraticabile quella zona di terra e pietre. Ieri sera invece il procuratore Giuseppe Volpe ha emesso un nuovo provvedimento che organizza il lavoro del personale dipendente del Palazzo di via Nazarian, magistrati, cancellieri e polizia giudiziaria.